Buongiorno a tutti, Lucia ci parla della storia di sua sorella. Durante queste puntate abbiamo parlato di storie di tumori, abbiamo parlato di storie di malattie rare. Quella della sorella di Lucia è la storia di una malattia progressiva che ha sconvolto una famiglia ma che ha anche trovato una seconda famiglia proprio in casa del sollievo. Ma ce la racconta lei. Posso? Sì, a te la parola Lucia. Grazie. Allora mia sorella aveva solo 12 anni, una ragazza normalissima, piena di vita, che all'improvviso comincia ad avere degli sbalzi nei movimenti, nei comportamenti. Il che ci ha insospettiti. Abbiamo iniziato con le varie analisi e alla fine siamo arrivati a San Giovanni Rotondo, dove subito un medico ha capito di che cosa si trattava. Era molto giovane e per noi era così dura, quella sendenza, richiamiamola fra virgolette sendenza, che non la volevamo accettare. Abbiamo girato di lungo e largo ma alla fine era quella la diagnosi purtroppo. E allora tutto è iniziato a un lungo calvario. La diagnosi era? Come? La diagnosi Lucia per i nostri telespettatori. Sclerosi multipla, sclerosante subacuta. Molto degenerativa, che in poco tempo ha ridotto mia sorella in uno stato di coma. Però è durata 18 anni questa malattia. Questi 18 anni Angela li ha passati in gran parte a San Giovanni Rotondo, all'ospedale Cassa Sollievo della Sofferenza. Un vero sollievo alla sua sofferenza. In primis ad Angela, ai miei genitori e a tutti noi, dove l'ha ricevuto cure a 360 gradi, attenzioni, calore umano. Anche quando, un esempio, era la festa di carnevale, Angela era una ragazzina. Loro, le infermiere, il personale, hanno inventato una forma di intrattenimento. Si sono mascherati e l'Angela gioiva. Angela era felice, insieme a lei mia madre, mio padre e tutti noi. Quindi possiamo dire che in qualche modo avete trovato un luogo in cui il vostro lungo calvario, il lungo calvario di Angela, è stato alleggerito, quantomeno da un aspetto umano importante, no? Tantissimo. Lucia, ascolta, io vorrei approfittare per chiedere a te, intanto mi piace anche la serenità con la quale racconti questa storia, perché a volte nella sofferenza c'è anche la fatica di non riuscire ad accettare la malattia, cosa che invece non mi sembra ovviamente il vostro caso. Però vorrei chiedere a te, che sei stata sua sorella, anche la famiglia, no? Spesso ci si dimentica anche delle famiglie. In realtà anche le vite dei familiari poi vengono sconvolte, quindi è importante anche un accompagnamento a tutta la famiglia in questi casi, no? Allora, prima di tutto si deve essere fortunati ad avere una famiglia molto unita. E noi ringraziamo il Signore per avere questa fortuna. Angela ci ha insegnato molto, credo a noi, ma anche al personale di Casa Sollievo della Sofferenza, perché era un amore reciproco. Angela interagiva bene con loro. È capitato anche qualche anno che Angela ha festeggiato il suo compleanno in corsia. E loro hanno preparato, hanno portato la torta, hanno spendo le candeline. Non vedo più Lucia, mi è inquadrata. Sì, ti diamo il tempo di rip... ecco qua, ok, ora sei ritornata. E loro hanno... No, di nuovo... Hanno preparato la torta... Ti abbiamo perso di nuovo Lucia. Non so se distrattamente c'è qualcosa che tocchi, che manda... Ecco la torta, di nuovo. Ecco qua. No, vabbè, allora, intanto che tu provi a ripristinare il video, io voglio anche dire che Angela oggi non c'è più, no? Sì. Però, ecco, ha lasciato questo segno, come spesso accade anche in queste storie. Sì, rispetto a quello che diceva Lucia, che lo scambio è stato reciproco, è assolutamente vero. Tant'è vero che c'è una lettera che il personale e Sor Grazia hanno scritto alla mamma di Angela, ringraziandola per la testimonianza che lei ha dato, stando vicino alla figlia. Per cui, se la mamma di Angela ringrazia il personale e Sor Grazia per il sostegno avuto, anche loro dicono è stata una testimonianza molto bella. Allora, riusciamo, ecco qui, ti abbiamo recuperato Lucia, Sor Cristina raccontava appunto della lettera che il personale di Casa Sollievo ha scritto, proprio ringraziando voi per la testimonianza data nell'affrontare questa malattia. Quindi ecco, lo scambio di cui parlavi tu, il segno che Angela ha lasciato, possiamo dire. Io mi verrebbe da dire i valori umani che a volte si perdono e la fede ti porta ad accettare anche questo calvario, perché se non c'è amore, l'amore fa miracoli, l'amore fa miracoli. Grazie Lucia, noi ti ringraziamo davvero per questa tua testimonianza, ci ha fatto molto piacere e ti auguriamo un 2022 pieno di tutto quello che desideri e speriamo per tutti, insomma, che sia un anno migliore. Grazie anche a voi. Grazie Lucia. Grazie, grazie Lucia. Grazie, buona giornata.